ciao da luci oggi sono qui per farvi vedere i miei nuovi acquisti italia artisan sono tutti fantastici sono veramente scioccata da alcuni prodotti che addirittura pensavo non fossero proprio così morbidi e invece ne sono rimasta veramente colpita quindi io direi che partiamo subito col primo prodotto ma prima vi dovevo dire che tutti questi prodotti che arrivano dall'italia vengono spediti dall'italia con tempi di consegne veramente brevissimi con spese di spedizione veramente bassissime e i prodotti sono assolutamente ottimi quindi io direi di partire con il primo filato primo filato eccola qua guardate che spettacolo si chiama cake snow e io ce l'ho in questa bellissima colorazione blu sabbia vedete parte proprio dall'interno allora innanzitutto tutto il filo è bicolor non è un unico colore vedete che si diciamo a questa particolarità di essere arrotolato con due colorazioni su ogni sfumatura parte dal nero diventa sabbia diventa azzurro e poi questo bellissimo blu un chilometro veramente di spettacolo guardate qua leggermente pelosetto veramente bello ci si possono fare dei fila dei progetti veramente grandi e anche questo bellissimo ciendolino di legno che innanzitutto determina la partenza vedete la segna la partenza dal centro poi se non volete partire dal centro ovviamente guardate qua c'è il filo per partire lateralmente ma in ogni caso decidete voi quindi comunque l'easy start è sempre una cosa comoda per il resto io direi che parla da solo è stupendo questo filato ci farò sicuramente un progetto importante secondo filato questa bellissima cake wool io l'ho scelta in questa colorazione fantastica che va dal verde pino al verde leggermente militare passa a ruggine viola un crema un nocciola un senape fino ad arrivare a vedete un verdino chiaro ed un'altra sfumatura sfumatura di verde questo filato è un 50 grammi per 250 metri ed è a solo il 20 per cento di lana tutto il resto è premium acrilico quindi un filato veramente molto bello guardate la sua il suo spessore vediamo se qua ci dice i ferri allora ferri uncineti indicati 4 dal 4 al 6 io penso sì che con un 5 questo potrebbe essere assolutamente lavorabile però voi sapete che varia sempre dalla vostra mano quindi io posso dirvi sì si lavora con 4 si si lavora con 5 ma se voi avete una mano larga o una mano stretta cambia totalmente la lavorazione quindi sta a voi poi decidere con quale uncinetto lavorarlo comunque il range dovrebbe essere dal 4 al 6 ecco qua un altro bellissimo filato che è la cake sparkle veramente bella questa è blu e guardate che spettacolo anche questa al easy start con questo bellissimo ciondolino in questo caso io quadrifoglio non so se sono tutti uguali o cambiano comunque questo bellissimo quadrifoglio in legno che può essere anche usato poi per abbellire la vostra creazione tu un tripudio di lurex guardate qua che tripudio di lurex allora questa è blu e parte dal blu notte diventa blu chiara fino al celeste è un celeste quasi polvere non è proprio totalmente polvere poi cambia un pelino la la visione dalla videocamera però vi assicuro che è veramente un bellissimo filato allora questo filato è un 100 per cento acrilico premium anch'esso e sono mille metri per 250 grammi guardate veramente uno spettacolo io ve lo sto muovendo per farvi vedere la luminosità della dell'urex è veramente molto molto bello anche questo sempre merceria italia artisan veramente bellissimo e anche questo ve lo straconsiglio veramente ci farò prestissimo anche con questo un bellissimo progetto e per ultimo ma non per ultimo perché ragazzi voi non potete immaginare la morbidezza di questo filato allora io ci sto studiando un progettino perché è un filato molto grosso quindi quando i filati sono grossi va studiato un po meglio il progettino allora questo filato è della yarn art e si chiama melody ed è veramente guardate ragazze ma io penso che si veda anche e poi è luminosissimo allora è un filato tricottato infatti vedete che vediamo se riesco avvicinare per farvelo vedere più da vicino ecco qua è un filato tricottato spettacolare e vi dico subito la composizione allora 100 grammi per 230 metri quindi comunque una bella metratura 9 per cento lana 21 per cento acrilico 70 per cento poliamide è veramente un filato spettacolare io lo vedo bene per ponci per scaldacolli per qualcosa di grosso perché veramente guardate ha una dimensione il filato che è abbastanza importante anche una buona resa perché comunque 250 230 l'ho perso ve lo dico subito 230 metri non sono pochi quindi per cento grammi 230 metri non sono per nulla pochi infatti il filato è leggerissimo è nella categoria 5 dei filati quindi comunque con i filati molto grossi da ferri 5 mm uncinetti dal 5 all'8 io ieri ho fatto una piccola prova e per la mia mano col 6 6 e mezzo già si lavora benissimo poi se si vuole una lavorazione più ariosa ovviamente si aumenta l'uncinetto se si vuole una lavorazione un po più stretta possiamo usare un uncinetto più piccino poi dipende comunque sempre dalla nostra mano quindi questi erano i prodotti che mi sono arrivati da merceria italia artisan adesso li mettiamo tutti vicini sono uno più bello dell'altro ve lo assicuro vi invito ad andare a visitare lo shop merceria italia artisan quindi vi invito a guardare sia questi filati dei quali vi metterò i link diretti vi metterò anche il link alla merceria così potrete dare una sbirciatina su altri prodotti io vi saluto e vi invito a venire a trovarmi sempre nel mio gruppo facebook creando e chiacchierando con Luci a presto e un bacione a tutti ciao